Sono Vittoria, responsabile dell'Orto del Borro e del progetto della cassetta bio a domicilio. Le nostre verdure sono assolutamente biologiche, certificate e prodotte proprio qui nel Valdarno. Verdure di stagione e uova biologiche provenienti dal nostro pollaio. In cassetta oppure in una pratica shopper, in due diverse misure, direttamente a casa vostra. C'è chi dice che siamo quello che mangiamo. Noi ci crediamo in questo e ci piacerebbe dare la possibilità a tutti di stare bene. Grazie a tutti.